Buonasera, sono la dottoressa Ludovica Muru e oggi vi parlerò del VelaShape 3. Il VelaShape è un macchinario di candela che ci permette di rimodellare il corpo andando ad agire sulla deposita localizzata e sulla cellulite. Lavora con tre tecnologie, l'energia infrarosso, la radiofrequenza bipolare e il vacuum, quindi l'aspirazione a vuoto dei tessuti. Il Vela ci permette di agire sulla quasi totalità del corpo andando a migliorare la circolazione, implementando l'infodrenaggio e migliorando la lipolisi. Nel nostro centro è possibile associare un piano alimentare specifico studiato sul paziente in modo da implementare i risultati ottenuti con il VelaShape e la mesoterapia e arrivare all'obiettivo in tempi di premi. Grazie per la visione!